e allora abbiamo rappresentati nella curva qui con noi 1-0 finalmente una gioia adattando i giocatori che avevano a disposizione Correa 2-0 per l'Inter minuto numero 55 grande azione dell'Inter che sulla sinistra trova un pertugio entra in area di rigore gol numero 5 del campionato di Correa due doppiette e il gol di oggi ed ecco che arriva il numero 3 Correa, Correa limite dell'aria si intestardisce, Correa, Correa palla sempre sul destro GOKI! buon! Grazie a tutti